buongiorno lo schiso buongiorno che cazzo è ma che cazzo di coglione svegliete ora senti ma che è ma che cazzo è ma che cazzo è ma buongiorno ma da sciacqua di coglione ma buongiorno ma buongiorno mi pareva di sognare con una bella sorca ma davvero e beh allora sei contento stamattina tanto tanto ma buongiorno ma sciacqua di coglione ma buongiorno ancora ma buongiorno un cazzo no 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 vattene dove andrà ti lascia qua di coglione e poi e poi no vattene a fangulo dove ah vattene no raggi a fangulo oh parte subito la giornata nel modo giusto con un bel vaffangulo tiriamo sulle calze alla nonna ecco le calze io mi ho tirato su grazie buongiorno ecco la ursolotta guarda che bel doppio mento sono sudata ma dove sei stata dopo una bella doccia mi spruzzo un buon profumo 9.01 oggi ritorno sul 9.01 che è uno dei miei preferiti ma vi ricordo che sono 5 fragranze di Isa G tutte da scegliere vi lascio la mail e avete anche la possibilità di avere i tester, 5 tester di tutte le fragranze che sono qua eccolo ecco sto cazzo ma questo come tocca a farlo ferma che Dio oh smettra tutto Dio e cominciare a lavorare la fretta smettra tutto Dio che mi ha detto il cazzo e la cordella e se che ha detto quello adesso tu guarda non ce li hai metto tu mica lui nooo da lui se li mette vai sta buono ma perchè ti incazzi stai a leggere incazzi non provi a metterlo ciao aspetta aspetta vieni a vedere ora vieni a vedere vieni a vedere è pieno di figa come guardati sta pieno è pieno è pieno ce la sicuro è pieno di figa sta pieno anche stamattina ma dopo dice uno dice le cazzate cazzo c'era fuori è vero che era pieno guarda è pieno 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 di che è figa che spettacolo ora settimana bianca al mio preferito non vi dico che c'è scritto perchè guarda le noci ho andato oggi alla mezza si sono superati grandi oh no ma va fancurro guarda dai che è oh no oh no 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 è pronto per capodanno guarda guarda che movimento tutt'un movimento ma f***a niente anche stasera è per f***o che non f***o no no anche stasera si tromba domani domani bravo il nonno complimenti domani fanno il trenino pe 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 ah il trenino può essere che il f***o no pe 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 levati di coglione trenino pe 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 oh tu nel f***o il trenino non credo perché no ti piace il treno anche quello quando passa che f***o oh ti guardo pe 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 è una gi***a bambocca no ma era dai ti è piaciuta questa non te l'aspettate ma che non mi è piaciuta il cazzo è molla alla tovaia lo spostamento del bicchiere rapido a giulio ti è piaciuto dai ti è piaciuto ma tu perché mi f***o ecco gli arrosticini come va la pecora come fa da te com'è ti piace fa bene oh no ti piace o no la pecora e ti credo come fa come fa ma volgi a f***o io non mi ricordo una pecora che fa volgi a f***o fa bene no beh ma smettola questo ciuffalo domani c'è il concerto ma che concerto ombesitri c'è il concerto dell'ultimo ora sentiamo i te voi sentite che sciacca oh ti è piaciuto il tutto via stupro ma non mi è sgastata ma non mi è ah no un sciacca di co***i ma perché ma che perché voi sentiamo i te mi viene colciucolando le reti ma c'è il concerto ma vado la mina al senso ma c'è il concertino ma vai a trovare una bella sorca altro che il concerto ma c'è il concerto del primo dell'anno l'ultimo dell'anno si si fammi guarda dal prego no mi fai male ti denuncio ti denuncio ti denuncio te denuncio sono tutto rotto mi ha fatto malissimo io vi saluto ci vediamo domani domani mi raccomando diretta vi voglio tutti i carichi però boh non vi sento che siete contenti che stiamo in diretta insieme a Capodanno boh vorrei vederevi più attivi che ne so non lo so non vi sento carichi quindi mi sa che boh ci sto a pensare se fa la diretta se o no non mi fate cambia idea perché non vi sento carichi boh vi sento un po' scarichi poi forse c'era una fontana dentro casa da sparare però non lo so datemi la carica necessaria perché qua vi sento scarichi non va bene non va bene non va bene buonanotte comunque vi ringrazio come tutti i giorni ma ve lo sottolineo sempre perché non è mai scontato dire grazie ragazzi ricordatevelo ricordatevelo sempre vostro capitano va a dormire ma va a dormire con la consapevolezza di avere una squadra siete voi ricordatevelo sempre grazie mille notte